Quattro sono i sanmarinesi nella formazione del Domagnano. Attenzione perché vediamo, perché si prova il Murata, Murata, attenzione, pallone dentro, Colonna, di piede la palla è lì, la conclusione, fuori, si prova subito il Murata. Ora si sgancia bene da questo possesso palla ben congegnato dal Domagnano. Lascia sfilare, attenzione, perché c'era questa buona opportunità, Donati, Donati, prova la conclusione alta, Colonna ha capito tutto, è dentato in anticipo, così come ha in anticipo Giga che recupera il pallone, Ura potrebbe servire proprio Giga, gliela dà proprio in questo momento, vediamo se ha fatto il cross, preferisce andare per via centrale, la conclusione, sfila, sul fondo di poco, Ferraro ci ha provato, le giocate da parte dei giovani di Angelini, ora si prova, attenzione, perché Ciccarelli ne prova la conclusione, Colonna, respinge di istinto, attenzione, perché c'è subito la profondità, Ura ci sganza bene, Ura può puntare Nanni, Ura, Ura, doppia finta, prova a mettere questo lob, Ciccarelli, attenzione, ancora Ciccarelli, prova, adesso la giocata per Giga, Giga può metterla di prima intenzione, il pallone arriva a Ferraro, il numero 8 Giovanardi, ancora Ura, Giovanardi fa buona guardia, siamo sul lato corto dell'area di rigore, pallone dentro, Peters, stringa i passi, prova la conclusione, alta, poteva essere ghiotta per il domagnano, attenzione, ora però si può riscattare Angelini, Angelini, Ura appoggia, nuovamente, centralmente per Affonso, attenzione, Affonso, 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 prova, ancora il Dreamy su Merendino, il tiro, blocca al Sinò, rispinge, Colonna, contro la Folgore, una Folgore combattiva e quadrata, la Renta l'ha segnata sempre in attenzione, proseguiamo, perché ci prova ora la conclusione, alta di pochissimo da parte di Affonso, ancora la giocata, sfera per Ciccarelli che allarga per Ura, Ura, Ura può puntare, vediamo, ne ha due, vediamo se va a cercare Simuels, è così, la palla viene riconsegnata a Ura che però viene anticipato, però attenzione perché c'è ancora l'opportunità, può allargare il gioco, ma sbaglia tutto, attenzione perché a sua volta ora c'ha spazio, proprio Simuels, Simuels può puntare, Simuels gli ha dato Affonso, Affonso, ancora il pallone dentro, sono tutti lì, prova, alta, tocca Celi, alto. soffiare letteralmente il pallone, non fischia l'arbitro, recupera ancora una volta un altro pallone, il domagnano, poi però è Caparbio, anche Simuels Cugna, che va a servire a sua volta a Ura, Ura, attenzione, il tiro! Colonna sul primo palo, è attentissimo! Ora attenzione perché riparte però il Murata con Affonso, Affonso, la sua velocità, la sua tecnica, ancora Affonso, se ne va via, ne ha dentro Ura, Ura, vediamo in area di rigore, Ura prova la conclusione, come vedete, ha segnato Ura, è passato in battaggio il Murata, esplode anche la panchina, di Angelini, Bervas con Selos, lungo, a cercare profondo sempre, Ura, Ura, veramente il battatore di questa partita, ancora Ura, se ne va via due giocatori, la palla lì per Affonso, Perassini, veramente un gol praticamente, con questo intervento difensivo. Ura, Ura, attenzione, Gagliani, tutto solo davanti al portiere, Gagliani, 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 è vinto il suo diretto avversario momentaneamente, poi la palla lì, Santana, sbaglia clamorosamente. Magliano, prova a mettere il pallone dentro, allontana, Peters, la palla è ancora lì, allontana ancora Gagliani, palla per Santana e ora è partito, ancora lì il Murata, ottima l'uscita da parte di Colonda. Lungo a cercare Ura, il man of the match fino a questo momento, ancora una gran giocata di Ura, Ura, attenzione, è un 3 contro 3, Ura, Ura, ancora si prova con la sua tecnica, ne salta uno, due, mette il pallone dentro, la palla è ancora lì, allontana.